Insistito, anzi, non ha neanche insistito, mi ha messo dentro il calendario, punto e basta. Quindi... Poi è successo anche in quiproquo, io mi trovavo con un titolo e adesso me ne trovo con un altro, e va bene. Eh? Eh? Il bar è stato molto accogliente, era caldo giusto, silenzio giusto, poi quando c'è stata un pochino di confusione di troppo, non so se era perché era arrivato il Vescovo, ovvero un po' il Vescovo è intervenuto e ha chiesto il silenzio, in maniera tale che, come si dice, un professore... Eh, non è vero.